biscotti integrali sicuramente molto molto salutari anche abbastanza dietetici perfetti per la prima colazione io ho usato diverse farine integrali però voi basta usare anche solo un tipo di farina integrale la cosa più importante è l'avena e nel video vi faccio vedere come usarla fatemi sapere se vi piacciono questi biscotti lasciatemi un commento e un like al video iscrivetevi al canale e come sempre cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video vi aspetto su instagram sotto trovate il link e anche il link al blog dove trovate le ricette scritte passo passo un bacione e alla prossima come prima cosa preparo la farina di avena semplicemente frullando finemente i fiocchi di avena in un mixer in un'ampia ciotola metto l'uovo lo zucchero l'olio un pizzico di sale la buccia del limone e la vaniglia e mescolo brevemente aggiungo poi tutte le farine insieme al lievito e anche i fiocchi di avena interi mescolo bene dapprima con un cucchiaio di legno e poi con le mani lascio in frigo una mezz'oretta a riposare a questo punto prendo con le mani una pallina di impasto e semplicemente la appiattisco fino a farne un disco regolare la forma potete però deciderla voi procedo in questo modo fino a finire tutto l'impasto dispongo i biscotti su una teglia foderata di carta forno e lascio cuocere in forno caldo a 160 gradi per circa 15 20 minuti lascio freddare completamente su una gratella e poi conservo i biscotti dentro un bel vaso di vetro